L'imperatore della sceneggiata, il re della posteggia e il più grande comico morente, insieme per un appuntamento imperdibile. Pino Mauro, Nando Citarella e Nicola Vici Domini per la prima volta insieme all'auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, con Io, tu e Pino Mauro, il 14 aprile alle 21.30. Un viaggio tra tre linguaggi completamente diversi, un viaggio tra tre borghi completamente diversi. È un viaggio tutto qua, un viaggio all'interno della tradizione in quanto massimo oblio, in quanto climax dell'oblio, non della tradizione in quanto ricordo. Tutta l'arte è oblio dell'umano. Ad accompagnarli in questo spettacolo tre musicisti d'eccezione. Sergio Colicchio al piano, ai fiati Paolo Iannarella e al contrabbasso Alessandro Patti. Parlavi in conferenza di un filo conduttore, qual è il filo conduttore di questo spettacolo? Il filo conduttore non esiste, ma come non esiste il filo conduttore nella vita. Quindi non vedo come possa esserci in uno spettacolo. Il filo conduttore è un problema, ci si inciampano il filo conduttore e poi non si capiscono le cose, non si passeggia per bene. Quindi io sono contro il filo conduttore, lo incendierei, anzi lo incendio. Un viaggio musical-teatrale, dove tre autentiche eccellenze italiane, muovendo dai rispettivi linguaggi e dalle personali sensibilità, abbrecceranno il firmamento della grande tradizione partenopea. Si assisterà al manifestarsi di un universo senza tempo, affresco impossibile divisioni, dove i classici della sceneggiata e della canzone romantica napoletana riecheggeranno il suono di antichi madrigali, dove l'umorismo più all'avanguardia dialogherà in un oblio della contemporaneità, con la commedia dell'arte, dove pastori medievali dell'entroterra campano banchetteranno, tra colorite esclamazioni, con muratori e sottoproletari della provincia di Napoli e Salerno. È nata perché tutti e tre, io, Pino e Nando, veniamo dalla provincia, dal deserto, e quindi dovevamo inventarci qualcosa, dovevamo inventarci un mondo, un linguaggio, perché nel deserto c'è bisogno di corteggiare le oasi, e quindi noi ci siamo fatti oasi, ci siamo fatti oasi, dobbiamo tanto a quel deserto, dobbiamo tanto alla mancanza, dobbiamo tanto all'assenza. In questo luogo il vero dissolve il reale nell'estasi del classico. Pino Mauro, maestro indiscusso di vocalità e vita, reduce dal trionfo all'Augusteo di Napoli e dall'ultima pellicola dei fratelli Manetti che ha vinto il Davide di Donatello, Nando Citarella, celebre giullare della scena musicale internazionale, e Nicola Vicidomeni, grande innovatore del linguaggio comico, campione di sold out con successo teatrale, Scapezzo. Si preparano ad un concerto spettacolo senza precedenti. Perché il pubblico deve venire a vedere questo spettacolo? Perché a 12 euro ridotto e 17 euro intero è molto difficile vedere tre pataterni sul palco. Pino Mauro, Nando Citarella e Nicola Vicidomeni vi aspettano all'Auditorium Parco della Musica Sala Petrassi con lo spettacolo Io, Tu e Pino Mauro, il 14 aprile alle 21.30.